cari amici di inside story oggi qui con me insieme a Tasso c'erano Francesco e Stefano che mi hanno raccontato del museo ferroviario di Suno ragazzi diteci un po' di cosa abbiamo parlato abbiamo parlato di come è nato di cosa offre e di tutte le cose belle che si possono vedere all'interno di quello che è stata la nostra festa di dieci anni perché siamo un museo giovane ma ormai ben avviato molto ben avviato e ricordiamo di visitare il nostro sito www.museoferroviario.it lì potete trovare la sezione calendario per sapere le nostre aperture e i nostri contatti per venirci a trovare anche sui nostri social in modo che possiamo incontrarci e allora non c'è nient'altro da dire venite a schentire la puntata insieme a loro così scoprite anche voi tutto quello che c'è da sapere ciao 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 ciao